le personalità la fonte preziosa attraverso roberto setti dicembre 1976 a cura di luciana campani setti voi sapete che l'individualità è stata paragonata specie dalle filosofie orientali e dalle religioni orientali in molti modi secondo molte figure noi possiamo paragonarla al tronco di un albero i cui rami sono le personalità rivestite nelle varie incarnazioni ora il ramo più alto non è il ramo più basso innalzato è un altro ramo allo stesso modo noi esprimiamo uno stato di coscienza che non è lo stesso che esprimevamo in una precedente incarnazione ma fra l'uno stato e l'altro esiste una continuità che abbiamo chiamato individualità allo stesso modo noi siamo ben diversi da dio ma fra noi e lui esiste una continuità che ci conduce a riconoscerci in lui chi afferma che una tale meta equivale all'annullamento degli esseri e dell'emanazione non sa quel che si dice non ha capito che creazione o emanazione non è un evento oggettivo e quindi oggettivamente non esiste e quindi assurdo sforzarsi di immaginare una realtà che contenga l'emanazione come componente oggettiva assurdo è pensare di volerli collocare gli esseri i sei gli spiriti gli ego che esistono solo dove esiste sequenza e separatività tempi e spazi nella realtà assoluta che al di là di tutto questo volerli collocare in quella realtà unica ed assoluta significa voler creare tanti dei che poi in realtà non possono essere tali perché può esistere un solo essere assoluto quello nel quale tutti ci riconosciamo ma come raggiungere la coscienza cosmica non significa pervenire ad uno stato di solidarietà con tutti gli esseri del cosmo tutti per uno uno per tutti ma significa essere la coscienza cosmica avere trasceso quel velo illusorio che ci fa distinguere gli uni dagli altri così identificarsi in dio non significa raggiungere un massimo stato di beatitudine e conservare la propria individualità identificarsi in dio significa essere tutto e nulla in particolare significa sentire al di là del trascorrere del divenire dell'illusione significa essere lui ed anche da quel poco che possiamo immaginare può chiamarsi annullamento una tale esistenza quindi